Mi chiamo Clori Mocchi, ho 17 anni e vengo da Urbagna, una piccola cittadina vicino a Urbino. Studio pianoforte, sono all'ottavo corso nel Conservatorio Rossini di Pesaro. Ho fatto dieci anni di danza classica e spero ancora di continuare a studiarla per migliorarmi. Fin da piccola ho sempre avuto questa passione per il teatro, ho sempre infatti preso parte agli spettacolini di musica che realizzava mia mamma. Anche io scrivevo copioni per fare spettacoli e recite insieme ai miei compagni di classe. Per me è una grande gioia poter recitare per poter trasmettere anche sentimenti al pubblico. Mi piace anche proprio molto, mi sento un po' diciamo a mio agio. Sono ancora alle prime armi però mi piacerebbe sperimentare, migliorare e poter crescere comunque in questo ambiente. Questo è il mio primo corso di teatro, il corso qui a Senigallia dell'associazione Esprimarte. Però adesso mi sta piacendo molto e sto cercando comunque di dare il meglio e di cercare di poter fare il meglio di me. Grazie. 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 Grazie.